Un intervento significativo per il nostro lungomare che riguarda 1.960.000 euro, un potenziamento delle scogliere per un tratto di costa di circa 2 km. A Marotta di Mondolfo il ricordo della violenta mareggiata del 2019 è ancora vivo ed ora continua e si amplia il progetto di sistemazione delle scogliere. La Regione Marche e il Comune hanno presentato i lavori di manutenzione per quello che il Sindaco definisce un intervento senza precedenti per il territorio, che avrà ricadute sia per il turismo sia per la sicurezza dei cittadini. Il primo stralcio è di 360.000 euro e andremo ad intervenire nella zona centrale del lungomare e il secondo stralcio riguarderà un intervento di difesa del litorale da via Marecchia circa fino al sottopasso Togliati. 360.000 euro sono finanziati direttamente dalla Regione Marche e riguardano il primo stralcio dei lavori che partiranno con l'affidamento in questo anno. 1.600.000 euro sono stati ottenuti dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, in quanto Mondolfo è rientrato tra i comuni danneggiati, inseriti nell'elenco di quelli interessati dallo stato di emergenza, dopo numerosi eventi meteorologici eccezionali. Andranno su un progetto redatto dal comune di Mondolfo, che andranno a manutentare, quindi a risistemare le scogliere già esistenti, quindi non si parla di nuove scogliere, le scogliere già esistenti che sono scogliere soffolte, che si sono degradate nel tempo come normale che sia e non garantiscono più la difesa di quel tratto di arenile, di spiaggia. A questo punto, con questi lavori, noi riportiamo quelle scogliere, diciamo, alla loro fase iniziale. Le scogliere, sommerse, si trovano a circa 250 metri dalla costa.